Musica 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 a disposizione come devo consegnare per il mio il mio il mio dai che ieri gli hanno fatto una stessa il mio il mio non è che la voglia fa male è una reazione è una reazione però c'è un signore noi siamo a Natale tutti buoni tutti bravi e vediamo la vita che è andata l'energia pino 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 Cosa vuole? No! No! Oh! Non c'è un po' C'è un po' ... per dire... ... faccio tu a tre algo ma sei lui che ci manca qua ferma Nati fate un po' un saluto alla telecamera perchè ha ripreso tutte le cazzate che avete detto adesso siete a po', salutate tranquillamente ci siamo? grazie 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 grazie